Musica Quasi 50 anni fa c'era una volta il West di Sergio Leone una ferrovia in costruzione e oggi invece ultima fermata di Gian Battista Santi che invece parla della soppressione di una linea ferroviaria nel nostro meridione i treni ricorrono spesso nella sua vita privata e professionale non solo come metafora, vero? No, perché anche papà si occupava dei treni a Tunisi e io prendevo tutte le mattine il treno da Tunisi per arrivare a Cartagine, a scuola Ultimamente lei sta prestando molta attenzione ai lavori dei nuovi cineasti e ai lavori di autori indipendenti Ci parla del suo ruolo in ultima fermata? Ma è un piccolo ruolo però mi è piaciuto anche perché è incredibile il mio terzo nome è Rosa e poi mi è piaciuto molto il copione Veniamo invece all'Emilia Romagna Noi siamo molto orgogliosi ovviamente delle nostre tradizioni cinematografiche dei nostri registi e cineasti Lei ha collaborato con due dei più grandi che sono Federico Fellini in otto e mezzo e Valerio Zurlini nella ragazza con la valigia Ci piacerebbe poter ascoltare un suo breve ricordo di queste esperienze e le diversità tra questi due personaggi così importanti Con Valerio ho cominciato quando ero giovanissima con Jacques Perrin e devo dire io lo adoravo Valerio e la cosa che mi ha fatto veramente molto male è che un giorno mi ha invitata a casa la casa era tutta vuota e mi ha detto ti voglio bene, ti voglio bene poi due giorni dopo si è suicidato mi voleva salutare prima di partire la cosa mi ha fatto veramente piangere poi Federico Fellini il film senza copione tutto improvvisato io facevo il gatto pardo e otto e mezzo insieme con Visconti era tutta una cosa molto preparata seria con Federico non c'era copione lui si metteva al posto di Marcello mi faceva le domande e poi Marcello ripeteva e poi tutti gli altri che stavano intorno dovevano soltanto contare e lui metteva in bocca quello che voleva si parla di una sua partecipazione a Bologna in un film sono voce oppure lo conferma? l'ho ricevuto adesso il copione quindi lo conferma? si si adesso mi hanno dato un copione che dovrò leggere ovviamente quando pensate di iniziare? deve ancora decidere oppure? devo leggerlo prima in Emilia Romagna siamo da poco partiti con un nuovo fondo a sostegno delle produzioni che gireranno sul territorio come vede il futuro del cinema in Italia? beh a me Martin Scorsese tutti mi hanno detto che loro si sono ispirati al cinema italiano perché noi abbiamo avuto la fortuna di avere mi hanno sempre detto che era il faro nel mondo il cinema italiano e questo è e adesso speriamo che ci siano più finanziamenti per i giovani è per questo che lei sta volando con autori indipendenti? assolutamente ultimamente ho lavorato con tanti registri al primo film grazie di essere stata con noi grazie ciao ciao